Come dice Vittor Hugo in Notre Dame de Paris, l'amore è come un albero, spunta da sé, getta profondamente le radici in tutto il nostro essere e continua a verdeggiare anche sopra un cuore in rovina, il che vuol dire, tradotto, che l'amore arriva quando e per chi gli pare a lui. Mi ricordo i viaggi in macchina con i miei genitori e con mia madre appassionatissima di Riccardo quindi sentivamo tutte le sue canzoni. Bella è una canzone difficile, ogni personaggio racconta la sua difficoltà di avere il contatto con Esmeralda, sia Quasimodo, sia Frollo e sia Febo vedono il pericolo nell'amore. A cantare sono dunque i tre uomini, innamorati di lei, ma senza speranza, come quelle infatuazioni estive destinate a restare tanti. Il primo è Quasimodo, Esmeralda non si innamorerà mai di lui, è gobbo e deforme. Se c'è un personaggio che mi appartiene totalmente in Notre Dame è Quasimodo, Quasimodo sono io. Io lo definisco sempre il più puro di tutti perché è vergine di sentimenti, perché è abituato a vivere in cattività. Io ho sempre avuto dei complessi, complessi di fatto di essere piccolo, di non essere presentabili certe volte. La canzone Dio, ma quanto è giusto il mondo, è mia, il mio grido di dire ma come, che ingiustizia c'è nel mondo, ma alcuni hanno tutto, alcuni non hanno niente. Gli altri due uomini che cantano la nostra canzone sono l'arcidiacono Frollo e il capitano delle guardie, Febo. Uno è un prete cattolico, l'altro è colui che ha l'ordine di cacciare Smeralda e il suo popolo di Zingari dalla città, quindi capirete che per due così non è proprio così semplice vivere il sentimento per lei, a proposito di amori impossibili. Per tutti quelli che quest'estate si sentiranno un po' quasimodo, sognando un amore impossibile, abbiamo deciso di mettere anche Bella nella nostra playlist estate. Notre Dame de Paris ha avuto un tale successo che quest'anno è di nuovo in scena in tutta Italia. Quando Notre Dame ha fatto la moda, ma non era la moda, perché non era assolutamente inconcepibile fare un'opera del genere e avere successo. I tempi dell'insicurezza giovanile per Cocciante sono lontani. Oggi gli amori impossibili di Cocciante riempiono i teatri. Pensa